Vuoi sapere se Bitcoin riuscirà a riportarsi su un trend rialzista, a dare spazio a grandi e ampi rialzi come è stato già nel 2017? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di quello che ci dice la statistica, quello che ci dice la storia sulla Bitcoin dei prossimi mesi, quello che potrebbe accadere da luglio, agosto e settembre. E se Bitcoin avrà o meno la forza di iniziare un nuovo trend rialzista, di dare grandi risultati, di indicare ottimi numeri in termini di performance, e cosa ci dice la storia a tal proposito? Ritornati in un nuovo video a parlare dei mercati, a parlare di Bitcoin, a parlare di previsioni statistiche per quanto riguarda i prossimi mesi che saranno fondamentali. C'è questa importantissima resistenza a 10.500 dollari, Bitcoin ha il compito di salire al di sopra di questa resistenza, ma in questo video vedremo ragazzi che i prossimi mesi non sono poi così rosei per il mercato e le criptovalute, e almeno da un punto di vista quantitativo, quindi i dati storici, le percentuali, la statistica, non ci dà grandi speranze. Ragazzi, quindi state attenti in questo video perché parleremo di una serie di considerazioni abbastanza importanti, anche in virtù della ripresa dei nuovi casi di pandemia che si sono sviluppati negli Stati Uniti in particolar modo, ma anche nel resto del mondo. Quindi dovremmo un po' focalizzarci su questi argomenti nei prossimi mesi. Ma prima di andare avanti e farvi vedere una serie di grafici, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, lasciandomi anche un pollice per questi video, e nei commenti fatemi sapere quello che pensate voi e come vi state posizionando da qui per tutta questa estate. Sarà un'estate rovente, ma può essere e potrebbe essere anche un'estate estremamente difficile. Ma prima di entrare nel vivo e farvi vedere tutti i grafici e parlare dell'argomento di oggi, volevo anche ricordarvi una cosa, un annuncio ufficiale. Anche quest'anno sarò presente alla Crypto Conference, che non si terrà a Milano quest'anno, bensì a Bologna, ragazzi. Sarò presente alla terza edizione della Crypto Conference, questa volta con uno speech tutto mio. È un workshop dove dedicheremo un'oretta circa, ragazzi, al trading, quindi preparerò un super grande intervento per tutti quanti, e sarà possibile anche incontrarci, farci le solite domande, quelle che già facciamo da un po' di tempo. È un'occasione unica, sia per vedere tutti gli operatori del settore, quelli internazionali e italiani, sia anche per assistere gratuitamente, ragazzi, a questi interventi che farò io, ma ci saranno anche tantissime altre persone che li faranno. Allora, ragazzi, nella Crypto Conferencenel.com, sul sito, trovate tutte le varie informazioni sulla terza edizione, tutto quello che stanno costruendo Francesco Radaelli e Federico Lanni, come sempre, che sono i realizzatori di questa grande conferenza. Ragazzi, qui ci sono già gli ospiti, molti sono degli ospiti che abbiamo già visto nelle precedenti edizioni, ma ce ne sono anche di tanti altri, soprattutto a livello internazionale. Andate sul sito per scoprire un po' chi parteciperà. Poi volevo farvi vedere il buono sconto che mi hanno dato, quindi per voi, ragazzi, quindi un buono sconto del 15% sul biglietto, che sono tra l'altro in Early Bird, attualmente quindi li pagate veramente poco. Nel momento in cui andate, per esempio, qui, vedete, a cliccare sull'acquisto del biglietto, come si fa a soffrire di questo sconto? Basta scrivere Trading On, ragazzi, o Kaimi sul coupon. Quindi, ragazzi, vi faccio un esempio su questo ticket. Vedete, qui vi chiede e li metti il codice promozionale, voi cliccate qui e mettete la scritta Trading On. Applichiamo il codice e voilà, subito il 15% di sconto su tutti i biglietti, ragazzi. La stessa cosa. Potete farla se volete utilizzare il mio cognome, va bene? Ok, allora, ragazzi, questo per quanto riguarda la CoinFrenze ne parleremo, perché poi man mano, insomma, nelle prossime settimane vi dirò anche gli argomenti che poi avrò scelto di portare a questo nuovo super evento italiano. Allora, andiamo a noi, ragazzi. Vi mostro subito i dati di oggi di cui parliamo. Allora, questi sono i dati relativi a Bitcoin, ragazzi, divisi per Quarterly. Quindi il famoso Q1, Q2, Q3, Q4, relativamente all'andamento della criptovaluta più famosa al mondo, quindi il re delle criptovalute. Allora, per quanto riguarda il Q2, ragazzi, è quello che abbiamo appena vissuto, quindi quello che termina da marzo a giugno. Vi dico già da subito che il Q2 di Bitcoin, ragazzi, è quello migliore da sempre. Quindi al 2014, come vedete, c'è un incremento notevole del prezzo di Bitcoin in quasi tutti gli anni. Soltanto nel 2018, quindi durante il mercato orso, Bitcoin ha perso nel Q2, quindi tra marzo e giugno dello stesso anno. Vedete che anche quest'anno si è mantenuto con un più 42% nel Q2, quindi ha mantenuto la statistica. Vedete, il 2014, 34, più o meno 5%, 61, 125 durante la bolla al rialzo, meno 6 durante il mercato orso, quindi anche durante il mercato orso, comunque ha avuto un risultato non eccessivamente basso, più 157 l'anno scorso che era andato di nuovo in bolla, ragazzi, un rialzo fantastico e poi 42% quest'anno. Ma andiamo al futuro. Intanto il peggiore di tutti i trimestri di Bitcoin è sempre il Q1. Il Q1 è veramente terribile, ragazzi. Pochi gli anni in cui ha avuto dei verdi, lo vedete, nel 2017 durante la bolla è stato anche il trimestre peggiore e poi nel 2019, che era l'anno della ripresa, perché veniva anche da un trimestre precedente anche abbastanza negativo. Quello che invece è il Q3, ragazzi, è un po' in bilico, però c'è da fare alcune considerazioni. Il Q3 e anche il Q4 non sono dei grandi trimestri per Bitcoin, perché abbiamo visto che il Q2 è quello più rialzista. Il Q3 in particolar modo, ragazzi, non ha la statistica a favore, perché 4 casi, vedete, su 7 perde, quindi più del 50% delle volte Bitcoin è andato a perdere nel trimestre che va da giugno a settembre. Per lo più, tra l'altro, anche le perdite, però, ragazzi, si sono concentrati nei primi anni, quindi questo ci potrebbe far ben sperare e poi la perdita importante è avvenuta soltanto un anno, cioè il 2014 al 40%, l'anno scorso il 22%, ma venivamo, ragazzi, da un più 157% del trimestre precedente, quindi questo va considerato. Quindi, negli ultimi anni, in realtà, il Q3 di Bitcoin non è così tanto negativo. Quindi, se è anche vero che la statistica ci dice che più del 50% delle volte il mercato non fa bene durante il terzo trimestre, e c'è anche da dire che gli ultimi anni, però, non sono del tutto così. Quindi, se escludiamo, però, vedete, quello della bolla speculativa, perché ipotizziamo che eravamo andati in bolla e basta, possiamo capire una cosa, cioè che comunque il Q3, ragazzi, se non dà risultati negativi, non dà neanche risultati positivi rilevanti, perché l'80% del 2017, diciamo che può essere considerato un evento unico al di fuori, magari di quella che era una struttura di normalità. Mentre il 2018 era un anno di mercato orso e il più 2, più 3, insomma, ha dimostrato un po' una fase di stasi, mentre il 2019, che veniva da un grande rialzo, il mercato è sceso. Cioè, in pratica, ragazzi, cosa vi sto dicendo? Che probabilmente, la probabilità, diciamo così, che Bitcoin nel Q3 faccia grandi numeri è estremamente bassa, perché probabilmente sarà stazionario, quindi con un più 5, meno 5, e all'interno, diciamo, in range, probabilmente ancora una volta. Lo so che è da un po' di tempo che il mercato è in trading range, ma io ho un grafico che sto monitorando, ve lo porto sul canale il prima possibile, un grafico di lungo periodo, che parla proprio di questo trading range, e mi porta anche a considerare che in effetti ci vorrà fine agosto, probabilmente, insomma, se non vediamo delle reazioni immediate, ci vorrà un po' fine agosto per vedere numeri diversi. E poi c'è un altro rischio, che è quello dei mercati old, che sono in una fase particolare, perché il Covid non demorde, ragazzi, i mercati avevano scontato un Covid che andasse via velocemente, ma non è stato così, ma di questa cosa e di quello che potrà accadere ne parliamo venerdì, mentre invece sulla considerazione di questo video quello che volevo farvi capire è che aspettarvi grandi movimenti Bitcoin probabilmente in questo Q3 non è il massimo. Poi, ovviamente, sono qui, ragazzi, e potremmo, diciamo, avere anche delle grandi soddisfazioni, magari io seguo sempre il trend, sapete. Allora, poi anche Q4, ragazzi, purtroppo non è nemmeno facile il Q4, che è incerto, però vedete che il Q4 su Bitcoin sicuramente non è negativo come il Q1 e il Q3, che sono i peggiori trimestri, storicamente parlando. Quindi, però del Q4, ragazzi, ne parleremo poi in futuro, quando questo trimestre sarà poi verificato, quindi sarà stato, diciamo, sviluppato. Da un punto di vista di analisi, per quanto riguarda il mercato, appunto, di stacione, sì, dietro di me, adesso vi ho messo il grafico, dovremmo essere indirittura d'arrivo di quella che è una fase ciclica importante di conclusione di questo mensile di cui vi ho parlato, perché si arrivava a fine mese di giugno, possibili primi di luglio. E così, ragazzi, sembra stia avvenendo, perché in effetti, vedete, c'è questa fase di ribassista laterale, però, ragazzi, che ancora continua e dovrebbe portarci qui da qui. Poi dovremmo iniziare un nuovo ciclo, che però, ragazzi, se lo confrontiamo con quello che abbiamo appena detto, potrebbe non avere grandi spazi. Resta fermo che l'analisi tecnica è l'analisi fondamentale, in questo caso, per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, è che la resistenza madre resta i 10.500, ormai io la estenderei anche a 11.000 dollari, quindi questa fascia di resistenza, un'app al di sopra di questi livelli, probabilmente creerebbe una bella fomo, ragazzi. Quindi, attenzione a queste cose, ma il problema per me resta la parte ribassista, quindi me spaventa un po' anche la parte ribassista. Bene, abbiamo visto che in questo nuovo trimestre, appena iniziato, probabilmente Bitcoin avrà difficoltà a dare grandi soddisfazioni, avrà ragione nella statistica, o quest'anno sarà un anno di eccezione. Noi speriamo sempre nell'anno di eccezione, chiaramente, ma, ragazzi, i numeri sono quelli di cui vi ho parlato. Bene, per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa analisi e cosa pensate voi relativamente a questo trimestre. Un'estate rovente, i prezzi salgono o scendono? Ciao a tutti, al prossimo video! Ciao a tutti!